Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere venuti a condividere con me questo momento molto importante che narra la fisiologia di un sogno che diventa in tutto e per tutto una storia d'amore. Infatti se ci pensiamo Venezia doveva apparire un sogno, un sogno sospeso sull'acqua per i viaggiatori del Grand Tour che giungevano in laguna durante il loro viaggio di formazione dall'inizio del Settecento e per tutto il secolo e questo sogno gli scaturiva ammirazione, desiderio e una fortissima passione che si traduceva nella ferma volontà di poter ottenere un ricordo di questa visione che per noi sono le vedute che ospitano i campi, campielli, i ponti, il Canal Grande, i luoghi frequentati che destavano una grande nostalgia nel momento in cui sarebbero tornati nel paese natale e che quindi pensavano di poter vincere alimentando questo amore trastullandosi nel rimirare le loro vedute. Lo stesso valeva per la campagna con le ville e i borghi dove i conisti del tempo raccontavano che i villani che in realtà erano figurati come splendide creature, ninfe e fauni che portavano dei cesti pieni di primizie e di fiori, erano intenti ad alleggirli a quegli stessi viaggiatori e in questa dimensione di sogno, in questa dimensione iperbolica di felicità si sviluppava nel loro immaginario quello che sarebbe diventato il perno del secolo d'oro, ovvero la grande epopea di quei generi minori che per noi tanto minori non sono, che appunto si chiamano paesaggio e veduta. Tutto ciò però era completamente indifferente ai veneziani, in quanto come naturale e come ognuno di noi avrà anche esperito nella sua vita tutto quando diventa abitudine è tremendamente banale e poco interessante e quindi naturalmente perché mai un veneziano avrebbe dovuto desiderare conservare per sé un'immagine di una città che frequentava ogni giorno e che poteva ammirare tranquillamente aprendo la finestra. Tutto ciò naturalmente era talmente scontato che gli interessi artistici si rivolgevano a ben altri lidi, quindi alla pittura figurativa, alla pittura mitologica, alla pittura di storia, mentre non solo la veduta e anche il paesaggio perché anche questo naturalmente era un territorio frequentato, non esistevano per lunghissimo tempo fino alla fine del Seicento e questo viene riassunto in modo mirabile in questo capriccio di Francesco Tironi in cui notiamo quanto l'ammirazione, l'amore, la contemplazione, il desiderio possano rivelarsi agli occhi invece di chi li sta vivendo, di chi è immerso in questo ambiente, assoluta indifferenza. Vi invito a guardare attentamente alcuni elementi della rappresentazione e in primis la chiesa di San Giorgio Maggiore che si affaccia sulla laguna e che quindi ci evoca Venezia. Questa chiesa è guardata da questa coppia ritratta di spalle che appunto immaginiamo in quell'estatica ammirazione che vi avevo suggerito in precedenza. Intorno a loro l'artista ha deciso di amplificare la dimensione del sogno, in quanto non solo la visione di questa città sull'acqua destra sicuro interesse in qualsiasi di noi la possa ammirare, ma è anche costellata di rottami antichi, di elementi esotici come l'obelisco, di fontane, di statue sopra i plinti che è anche difficile immaginare potessero esistere in un mondo reale e infatti così non è. Quello che meraviglia è notare che ai piedi di questi resti ci sono delle persone indaffarate nella vita di ogni giorno. C'è chi attinge da una fontana che sembra un piatto, c'è chi si riposa addirittura tra queste rovine come se nulla fosse, c'è chi pesca, c'è chi conversa e chi trattiene le cime di un vegliero. Mentre altri lavoranti invece attendono a quelle che sono le loro occupazioni e in questo caso, e questo ci interesserà molto nel corso di questa trattazione, imbarcano delle casse di legno in una barca. Queste stesse casse sono caricate nel vegliero che invece abbiamo in primo piano, con i soliti lavoranti a fare da contorno e con un personaggio con il cappello a tricorno che potrebbe essere uno dei protagonisti della nostra storia d'amore e che andremo poi a ricercare e a ritrovare nel corso di questa nostra piacevole chiacchierata. In questo riassunto, in questa metafora di ordinaria quotidianità che tracima nel sogno, ribadiamo un concetto fondamentale. Perché per quanto noi andiamo a ritroso con il pensiero e anzi crediamo di sapere che quello che sto dicendo non è vero e affermiamo che il paesaggio in realtà a Venezia esiste. Ma vi invito a guardare il paesaggio che troneggia in questo ambiente settecentesco raffigurato da Roberto Longhi e che rappresenta una delle tante case veneziane soprattutto straniere del Settecento, dove questo sogno, questo brandello di realtà diventata ricordo diventa stato simbol, diventa oggetto di desiderio. Come in realtà nel Rinascimento potremmo credere che fosse questo e che sia solo un'evoluzione. In realtà questo dipinto che conoscerete voi tutti e che illustra uno dei capolavori assoluti non solo del Rinascimento ma della storia dell'arte si intitola La Tempesta. Già dal titolo naturalmente ci suggerisce significati ben diversi e ben più critici di quello che non ci racconti ciò che vediamo ed è vero indubbiamente ci sono gli alberi, c'è un fiume, c'è uno scorcio suburbano, ma nessuno mi potrà mai convincere che l'elemento di interesse di questo dipinto è il paesaggio oppure gli edifici che si affacciano in lontananza. Sono solo uno sfondo a qualcosa di altro, a qualcosa di più importante, a qualcosa che ancora neanche noi riusciamo a capire, ovvero allo sguardo enigmatico e alla presenza di questa fanciulla seminuda che allatta e ci sta guardando. Mentre qualcun altro, un viandante, un pastore, per alcuni o addirittura un guerriero, a sua volta la rimira. Questo messaggio che in realtà è la chiave del Rinascimento, che ci racconta come la realtà ci nasconda tanti altri significati e ci invita a viaggiare al suo interno, aveva prodotto una tale suggestione e consentitemi il volo pindarico che tre secoli più tardi un artista, Edouard Manet, che sarà il paladino del realismo ottocentesco e decido di usare la stessa metafora per raffigurare un finto paesaggio. Perché certo, questa è una colazione sull'erba, questo è il titolo del dipinto, ma vi fido a ricordare che l'elemento più importante è questa infilata di alberi, l'elemento che seduce tutti noi, che ci fa stare incollati alla tela, anche questa volta è la fanciulla nuda che creandoci imbarazzo ci guarda chiedendoci chissà cosa. Questi due non sono paesaggi, questi motivi attraversano i secoli perché hanno ben alto da raccontarci, il paesaggio puro inteso come genere è un ambiente in cui la natura è assoluta protagonista, questo è un vero paesaggio e solo il mondo nordico, il mondo d'oltralpe sapeva cosa significava e leggere lo sfondo naturale assoluto protagonista della composizione e come noi in questo brano evangelico che narra la vicenda di Tobbiolo e l'Angelo non possiamo negare che stiamo a guardare questo ponte, stiamo a guardare questo sfondo, i raggi del sole che conducono la nostra vista e i nostri sensi verso un mondo naturale che va ancora oltre il naturale però che è costituito da una natura che ci seduce e ci cattura. In questo concetto i veneziani avrebbero trovato la chiave del successo di un genere che ancora oggi ci seduce a moltissimo da raccontarci e grazie a una colonia di artisti stranieri provenienti proprio d'oltralpe che dalla metà del Seicento si erano insediati in laguna nasce il paesaggio veneto. In questa tempera di Marco Ricci che è il più importante rappresentante del genere nel primo settecento si vede questo passaggio, si vede come l'atmosfera della laguna, la meravigliosa luce veneziana abbracci i motivi nordici. Vediamo la capanna che è un elemento assolutamente ignoto nella nostra tradizione, vediamo la vita di ogni giorno con le lavandaie, con gli animali alla beverata, con questo cavaliere all'orizzonte, un orizzonte rosa e azzurro, un orizzonte felice fissato in un'eterna primavera e soprattutto in un eterno sole meridiano che ci vuole rendere una metafora di come ciascuno di noi ora come allora vorrebbe che in fondo fosse la propria vita, quindi un abbaccinante meriggio assolato in cui perdersi e questo è il senso del paesaggio veneziano, questa è la chiave di questo amore, di questo amore che inevitabilmente ha travolto intere generazioni di appassionati, di collezionisti e che nel settecento vede germogliare una tradizione importantissima che avrà in Francesco Zuccarelli e qui lo vediamo in uno dei paesaggi della prima metà del settecento, uno dei suoi assoluti protagonisti. L'artista toscano, perché poi dobbiamo sottolineare che i più importanti rappresentanti di paesaggio è veduto a Venezia, nel maggior parte dei cani che non sono di estazione lagunare, ci racconta non una storia ma un meraviglioso scenario campestre dove la pastorella Sisa e il pastore che porta la capretta è solo un tremulo accenno a quello che può essere un elemento umano che in realtà si perde, che in realtà sconfina e ci invita ad entrare, ci invita a sognare, ci invita ad abbandonarci a quello che è ciò che vorremmo trovare nei nostri sogni, nelle nostre fantasie in fondo al nostro cuore. Lo stesso vale per la veduta, sfido ciascuno di voi andare con la memoria, quella che è una venduta settecentesca e confrontarla con questa processione in Piazza San Marco di Gentile Bellini, fatta appunto nel Rinascimento. Certo c'è Venezia, ma la Basilica Marciana è praticamente uno sfondo legnoso che quasi si stenta a riconoscere, sembra un'icona, perché la sua funzione era incorniciare la gloria di Venezia e celebrare dicendo, si sta svolgendo proprio qui una vera e propria epopea, un'epopea politica che nel settecento è completamente dimenticata, anche perché i nostri dipinti non si rivolgevano a coloro che volevano celebrare i propri fasti, ma a coloro che volevano guardare e riguardare Venezia in qualsiasi momento, una volta appunto ritornati in Lidi che con Venezia avevano ben poco a che fare. Questo lo aveva capito Gaspar Van Vittel, guarda caso, artista esterniero distanza a Roma che aveva intrapreso un viaggio nel nord Italia e che aveva insegnato, suggerito ai veneziani e codificato le basi della nostra veduta di questo genere straordinario che ha dominato il settecento in tutta Europa. È molto diverso lo spirito, questa è una fotografia, è una cronaca di un'ordinaria giornata, sempre naturalmente e rigorosamente illuminata da un bellissimo sole, dove a fare sfoggio di sé sono gli edifici, sono le acque della laguna, sono questi amabili personaggi che conducono la barca, che faticano, che si hanno da fare per essere esattamente ciò che sono, ciò che ciascun abitante di Venezia era nel suo quotidiano. Questa è la veduta, questa è un po' meno veduta, perché non era così facile a Venezia metabolizzare un certo tipo di messaggio, perché era vissuto il nord Europa e che era sempre stato abituato a dipingere la propria città, naturalmente era normale dipingere una città, come per noi è normale fare una fotografia. Qui invece Luca Callevaris, che è un pioniere del vedutismo veneto, costruisce una veduta amabilissima, bellissima, dove il Canal Grande è sicuramente celebrato, ma dove a fare sfoggio di sé è ancora una volta il grande evento, perché il vedutista qui non ha chiamato rappresentare la città, ma un evento politico preciso, ovvero la visita del principe di Danimarca a Venezia, per cui venivano allestiti degli spettacoli particolari e in questo caso una regata storica. Non sarà la sola Venezia nel corso del Settecento, perché ovviamente a prescindere dall'importanza dell'evento è molto accattivante vedere queste gondole e queste imbarcazioni abbigliate, in questo caso invece dà proprio il senso con questa prosopopea di elementi figurativi in primo piano di quanto sia importante il fasto per l'apparato veneziano. E quindi non sarà così semplice formalizzare la veduta, ci vorrà del tempo e grazie a personalità, come Antonio Canal, detto il Canaletto, riesce a diventare il genere, forse tra i più amati di tutta la storia dell'arte. Questo giovane pittore era un genio assoluto fin dagli esordi. Era stato fortunato, perché era stato educato dal padre nell'ambito della scenografia, che se pensiamo doveva immortalare degli apparati di sfondi campestri o di sfondi urbani che fossero godevoli per ospitare le scene degli attori che appunto recitavano. E il suo genio poi, con un piccolo passo, si era manifestato nel panorama artistico veneziano, tanto che tutti volevano una veduta di Canaletto, collezionisti italiani e collezionisti stranieri. Solo che Canaletto aveva un grosso problema. Oltre ad essere un misantropo, in quanto non ebbe mai famiglia e a differenza di tutti i suoi colleghi non presenzio mai né a battesimi, né a cerimonie pubbliche, né a nessun tipo di manifestazione che fosse meramente sociale, come in qualità di testimoni, come invece accadeva, perché in fondo l'ambiente dei pittori era un ambiente ristretto, era una piccola comunità, aveva anche il difetto di possedere una grettezza che per noi è assolutamente incompatibile con il genio. È normale, o almeno per me è sempre stato normale associare una grande personalità a una grande persona o almeno a una persona degna. Canaletto era talmente avido e gretto da contrattare con i propri clienti la cifra di uno zecchino. Da un suo acquirente molto importante, un mercante di stoffe lucchese, in una lettera dove descriveva l'avanzamento dei lavori, dopo essere già stato pagato, prima di riceverli, esigeva testualmente un regalo e il regalo era qualche moneta, altrimenti non avrebbe consegnato il lavoro. Dobbiamo immaginare quindi come colui che confeziona opere come queste e che poteva avere a disposizione una platea di acquirenti internazionali che l'avrebbero reso ricchissimo, si era ridotto quasi in miseria, perché questo carattere naturalmente aveva inficiato moltissimo la relazione. Sappiamo che la vita di relazione è fondamentale in qualsiasi settore. Dobbiamo immaginarci quindi una persona che contrattava su un soldo dopo essere stato pagato, sortiva da mediatori del calibro di Anton Maria Zanetti che avevano in mano le redini del mercato, perché la pittura era mercato, la gente voleva una veduta e la pagava, che riferiva al suo committente dopo una trattativa logorante finalmente sono riuscito ad avere l'impegno di Canaletto a finire due pezzi entro un anno, a un tale seguito e tutti sono felici di pagare quello che chiede, ma poiché considera se stesso al di sopra di tutti gli altri, pensa di avermi fatto un gran favore. Immaginiamo i ricchissimi gentiluomini straniari, abituati a ben altri trattamenti, a ben altri interlocutori, che avrebbero dovuto recarsi da questo personaggio non proprio approcciabile e dovessi confrontare per avere un quadro che non si sveglia neanche quando avrebbero ricevuto e in che modalità. Era una cosa assurda, però d'altra parte c'era un mercato che i quadri li voleva e quali li pagava profumatamente e quindi la situazione si è risalta in modo mirabile, grazie a un mercante inglese che si trovava a Venezia per affari, si chiamava Joseph Smith, era figlio di mercanti che avevano fatto fortuna con il commercio della carne e l'avevano mandato in Italia per imparare a diventare banchiera. Questi che avevano un fiuto commerciale straordinario avevano capito le potenzialità di un mercato che al tempo zoppicava e di questo giovane disgraziato dal punto di vista commerciale che però poteva essere una miniera d'oro. Quindi conoscendo moltissimi inglesi, ovviamente parlando benissimo l'inglese che non è caratteristica da poco perché non è che i viaggiatori al tempo avessero una capacità di interloquire nelle varie lingue come potremmo averla meno noi di base, gli era venuta una splendida idea. Prima di tutto doveva decidere di crearsi un'immagine e quindi affitto un palazzo sul canale grande e qui impalca un vero e proprio giro d'affari travestito da incontri culturali, ovvero riceveva i potenziali clienti, i viaggiatori del Gran Turra nel suo salotto dove alle pareti erano appesi i quadri di canaletto. Conversava amabilmente e naturalmente l'argomento cadeva sulla questione dei dipinti e quando qualcuno venendo appeso alle pareti quadri come questi sicuramente com'è che andrebbe a ciascuno di noi e soprattutto questi turisti innamoratissimi di Venezia auspicava la possibilità di poter avere un canaletto, questi non vendevano naturalmente l'opera alla parete perché quella era un fattore pubblicitario, ma gli diceva che c'è la possibilità che questo Antonio Canagli potesse confezionare una veduta, anzi avrebbero addirittura potuto scegliere il soggetto che più gli piaceva tramite un album di incisioni fatte da un suo amico Antonio Visentini, un suo protetto, un giovane e promettente incisore in cui come vedete sfogliando poteva incontrare questo tema e decidere un altro perché di temi prima nella prima edizione di questo album fatto apposta proprio per Joseph Smith esibito in casa di Joseph Smith come recitava il frontespizio, quindi se volete avere un dipinto di questo tipo andate da lui, si trovavano in realtà 25 immagini come questa, che quindi un gentiluomo tranquillamente seduto sulla propria poltona poteva scegliere. Qual era il problema? Avere la disponibilità di canaletto e questo è stato relativamente facile perché aveva fatto firmare un contratto di tre anni inizialmente che invece lo vincolò fino al 1746 quando l'artista ridotto in miseria perché praticamente lo Smith tratteneva la quasi totalità dei proventi, dovette andare a far cercare fortuna la fonte ovvero in Inghilterra dove talvolta non venne neanche creduto, quindi dovette annunciare pubblicamente sui giornali che il famoso Antonio Canaletto stava in Inghilterra perché questo console Smith che poi appunto diventerà console in quanto il suo potere economico era diventato incredibile, dettava tutte le condizioni e tra le varie condizioni quando Canaletto era oberato di lavoro o quando se ne fosse andato c'era perfino il piano B, ovvero un suo valente sostituto. Copista? Falsario? In un mondo in cui il concetto di autenticità come quello del Settecento non esiste, era un bravissimo pittore che sapeva dipingere perfettamente la maniera di Canaletto e Giovanni Battista Cimaroli, pittore Lombardo di Salò, bravissimo, che imitava al soldo del console Smith le pièce di Canaletto che il console Smith vendeva ovviamente come Canaletto originali, alimentando un bacino d'affari straordinario, veramente geniale. Questo Cimaroli ovviamente non si limitava, essendo molto versatile e molto capace a fare solo veduta, anche perché c'era necessità di confezionare anche paesaggi, perché Canaletto non ne faceva, però c'era Francesco Zuccarelli, il citato Zuccarelli, che invece a differenza di Antonio era commerciamente molto abile, molto impegnato, lavorava per i sovrani di tutta Europa nel confezionare questi paesaggi che erano diventati di grandissima moda. Cimaroli riusciva a dimintare anche lui e quindi confezionava questi bellissimi dipinti, come vedete, che ritangono la campagna veneta, i borghi, qui ci troviamo esattamente nella riviera del Brenta, dove non mancava anche questo elemento di fantasia che tanto, tanto piaceva al pubblico settecentesco. Anche questo però andava presentato ai clienti, perché era marcia importante, andava offerta nel migliore dei modi e quindi il console Smith compra una villa in campagna, dove riceve i propri clienti allo stesso modo in cui faceva Venezia. Con un piano ancora più interessante, perché questa volta l'abbiamo documentato, ovvero commissiona Francesco Zuccarelli che non lavora per lui, lavora per lui come per tutti gli altri, una serie di sette dipinti, paesaggi naturalmente, con scene religiose molto molto grandi e ne colloca sei nel portego del suo palazzo, in modo che accolgano sontuosamente gli ospiti. Il portego di un palazzo, di una villa veneta, è strutturato in modo tale che dobbiamo immaginare l'ingresso e le due pareti costellate di finestre. Tra una finestra e l'altra c'è uno spazio, in questo spazio colloca tre a destra e tre a sinistra dei quadri di formato verticale di un metro e mezzo per tre e in fondo alla sala, dinanzi in fondo come mi trovo io ora, invece troneggia questo dipinto che attualmente è nelle collezioni reali inglesi, perché è stato venduto dallo Smith a reggio Gioterso, dove possiamo immaginare il turista, il gentiluomo, il potenziale cliente rimane affolgorato, dipinto di sette metri, dipinto firmato e datato a Francesco Zuccarelli, in modo da non lasciare dubbi e sapere perfettamente cosa chiede la consule Smith, cioè un Francesco Zuccarelli. Quest'operazione di marketing di straordinaria importanza naturalmente non è l'unica realtà di Venezia, quando il mercato detta delle condizioni non ci sono regole particolari e ciascuno cerca di prendere quello che può, c'erano i turisti inglesi molto abbienti, c'era anche un circuito di gente che straniera, non era così abbiente o proveniva anche da altre aree, da altre nazioni e quindi si erano sviluppati altri circuiti. Il rappresentante più degno di un circuito parallelo a quello del consul Smith che era comunque estremamente elitario è Michele Marieschi, grandissimo vedutista, competitor di Canaletto sul mercato, che diventa invece la punta di diamante di un'azienda che era la bottega da quadri di Domenico Fontana. Rispetto certo al palazzo veneziano del consul ma si trattava di una realtà più modesta perché era un negozio, laboratorio perché tacco molti lavoranti che si affacendavano nel costruire queste vedute che poi una volta eseguite molto spesso anche a più mani perché bisognava essere veloci e soprattutto bisognava sfruttare il talento di ciascun artista, se c'era un artista bravo a fare l'acqua faceva solo l'acqua, chi era più bravo a fare le macchiette le apponeva negli sfondi e gli sfondi gli faceva un terzo, nel caso di Michele Marieschi era il più bravo in assoluto a fare gli sfondi. Domenico Fontana l'ha capito e quindi è stato talmente furbo da fargli anche sposare la figlia in modo tale che l'avrebbe preso e tenuto fino alla morte, morte purtroppo precoce per il giovane Michele ma che non gli ha impedito di far prosperare questa bottega da quadri che è una realtà molto poco aulica e che forse non è che ci piaccia moltissimo essendo molto legati al concetto di genialità ma noi stiamo parlando di prodotti artigianali, prodotti bellissimi che nascevano per essere appesi alle pareti e questo Michele lo sapeva fare bellissimo, lo sapeva fare qui quando lavora da solo, lo sa fare ancora meglio quando gestito dal genere fa questo, questo è pinto straordinario e soprattutto le macchiette sono notevoli, molto diverse da quelle che abbiamo visto perché non le fa Michele, le fa Antonio guardi, il fratello del cialebe Francesco che alla bisogna veniva chiamato dal bottegher e gli veniva pagato alla giornata il lavoro per apporre questi personaggi nei dipinti al fine di renderli più appetibili per il mercato, un mercato che comunque era abbastanza strano perché non è che ricercasse la qualità, ricercava oggetti di arredamento e se riusciva a pagarli il meno possibile era il massimo, questo non lo facevano solo i turisti di passaggio, faceva anche la nobiltà veneziana e in questa villa straordinaria del Doge Manina Passariano che non era che la sua residenza estiva, quindi un luogo importante in cui si tratteneva con tutto il seguito, in realtà il Doge desiderava che fossero acquistati dei quadri a mazzi, cioè in ingente quantità, non importava assolutamente se fossero buoni o cattivi, servivano che fossero pagati il meno possibile per tappezzare le pareti in modo tale che non ci fossero posti vuoti, tanto che l'artista che li aveva eseguiti non è neanche noto negli inventari, negli inventari viene citato il bottegher da quale che li aveva venduti, quindi l'artista era assolutamente un operaio che confezionava una tela che doveva essere appesa a una parete, lo stesso accadeva in Germania, in Vestalia e questa è una sala del castello di Velen dove inseriti come in una boiserie ci sono tre vedute e quattro teste di carattere, ovvero soggetti piacevano un sacco i tedeschi e che insieme detta fra di noi veramente non ci azzeccano nulla, però che piacevano moltissimo a questo barone e che li aveva comprati ad un prezzo risorio, sempre ad un altro bottegher da quadri che per nostra fortuna ha fatto tramandare le ricevute in cui anzi quando li aveva acquistati poi sono stati spogliati delle loro cornici, le cornici stesse costavano più delle tele. In realtà coloro che avevano eseguito questi dipinti non è che fossero artisti da poco, però nella maggior parte dei casi sono stati completamente dimenticati, anche perché nella maggior parte dei casi non sono mai esistiti, almeno non per il pubblico, il loro nome non compariva, oppure se ne è andato insieme insieme a quella clientela che è tornata nel proprio paese d'origine e che parlava in questo caso di avere appesa alla parete una regata, non un dipinto di Apollonio Domenichini che anche a noi, credo che alla maggior parte di voi non dica nulla. Apollonio Domenichini in realtà era il rappresentante di una terza realtà, ovvero di un'azienda familiare, molto più modesta di una bottega da quadri, dove per guadagnarsi la pagnotta, ovvero la mera sopravvivenza, questi pittori che venivano elencati negli inventari come famelici, decidevano di mettersi alla prova e di sfornare vedute per poterle vendere. Apollonio Facchinetti, che è uno dei tre fratelli Facchinetti che hanno una bottega di famiglia, solo recentemente riesumata, grazie a degli studi archivistici condotti da Lino Moretti, in realtà ci racconta una Venezia straordinaria, con una tecnica straordinaria, come possiamo notare in questo capolavoro, che ci dà uno spaccato di quella che è una tecnica che ci lascia un po' perplessi, anche perché se l'ha veduto uno stato simbolo e comunque necessariamente come qualsiasi marchio avrebbe dovuto evocare uno stile, un nome famoso, una riconoscibilità, questi prodotti che in realtà ancora oggi inondano il mercato con una sorta di anonimato attribuito ad altri ma senza alcun motivo, non copiano nessuno, perché non potevano copiarlo, perché Apollonio Facchinetti e Fratelli, ai margini del mercato, completamente al di fuori dei circuiti, dei giri che contano, sicuramente Canaletto non potevano vedere come dipingeva, Michele Marieschi comunque era precluso, dovevano arrangiarsi ed elaborare uno stile loro e grazie alla loro personalità io lo dico, per fortuna nascono capolavori come questi, che non assomigliano a nulla se non a se stessi, al proprio genio, al proprio talento e come comunque ogni impresa familiare, come ogni realtà ci sono gli alti e bassi, questo un altissimo e questo un basso, questo è fatto dal fratello di Apollonio sul medesimo modello, identico, perché lavorando insieme lavoravano sugli stessi soggetti, si passavano i disegni e ognuno si esercitava e vi invito a rifare il confronto, entrambi i prodotti messi sul mercato, fatti in modo seriale che però piacevano molto soprattutto per il soggetto, non per lo stile, tanto che alla fine del 700 un pittore di stile guardesco fa lo stesso soggetto in modo completamente diverso, questo cosa significa? Che non è che i facchinetti fossero proprio nessuno, almeno per i circuiti mercantili e che il soggetto valeva molto, molto di più dello stile e del suo artefice, almeno per coloro che andavano a Venezia e compravano le vedute. In questo circuito di bassissimo profilo, quindi di imprese familiari che cercavano di tirare a giornata, si colloca il nostro citato Antonio Guardi, Guardi è un cognome importantissimo, il panorama veneziano e quando lo sentiamo lo associamo ancora una volta, sicuramente è una realtà di pregio, purtroppo la vicenda della famiglia Guardi, perché ancora una volta parliamo di famiglia, è a mio avviso drammatica. Il padre Domenico, che è originario della Val di Sole in Trentino, migra a Venezia ed è un modestissimo pittore che ha questa piccola botteguccia, muore prematuramente e come accade, il maggiore dei figli era di tala bottega, talentuoso, qui lo vediamo in un'opera della piena maturità, Antonio, fratello maggiore del celeberrimo vedutista Francesco, cerca di tirare sulle sorti, in realtà imprese impossibili, perché lavoravano per l'alta nobiltà e grandi collezionisti, essendo pagati alla giornata come un servitore e soprattutto eseguivano o copie di quadri che avevano questi nobili uomini in residenze importanti e di cui volevano formati più piccoli, oppure opere di modestissimo tenore, che quindi gli procurava una rendita capace di sostentarli proprio nei minimi bisogni. Antonio non ha casa, non denuncia nulla come reddito, è un fantasma, non sapremmo neanche che sarebbe esistito se non ci fosse il suo nome negli inventari di collezionisti del calibro del maresciallo von den Schulenburg, che è una delle punte di diamante della realtà veneziana, ma che trattava appunto Antonio come l'ultimo dei lavoranti, oppure come i conti giovanelli, che gli facevano addirittura la carità e che oltre a dargli qualche zecchino ogni tanto diciamo a questo poveraccio insieme a suo fratello qualche fagiano, al posto di darlo all'inserviente lo diamo a lui poveraccio. Purtroppo sono testimonianze tramandate che ci raccontano di quella che fosse la condizione dei pittori, che è una condizione miserabile, che è anche difficile in realtà associarla al valore, a quello che a noi hanno dato e continuano a darci, ma che in realtà erano degli artigiani al limite della sopravvivenza. Bisognava solo avere non un grandissimo talento, forse non necessariamente quello, ma la capacità di interpretare ciò che il mercato desiderava. Lì si riusciva a vivere, si riusciva a diventare grandi e a guadagnare moltissimo invece, se si sapeva gestire questa situazione, capire dove la clientela andava a parare, cosa desiderava e come andava gestita. L'aveva capito benissimo Francesco Guardi, che dopo aver intapeso una carriera da modestissimo figurista a Franco del fratello, se ne libera e diventa quello che è per tutti noi, cioè uno dei più grandi vedutisti del 700 veneziano. Inizia come seguaccio di Canaletto, tanto che definito dalle cronache a scopo promozionale buon scolaro di Canaletto, perché Canaletto era il nome jolly, si diceva Canaletto e naturalmente tutti rizzavano le orecchie, per definire invece uno stile poi formalizzato, che abbandona Canaletto, perché lo stesso Antonio una volta tornato dall'Inghilterra crolla. Noi vediamo questo saggio che è il saggio di ammissione all'Accademia Veneziana, celeberrimo, in realtà molto debole dal punto di vista dell'ispirazione, perché comunque un saggio accademico, fortemente prospettico, non dà l'emozione che abbiamo visto nei nostri dipinti di esordio, un quadro molto tecnico, perché Canaletto dopo l'Inghilterra è un manierista di se stesso, è diventato un artigiano del pennello che sforna opera in modo seriale, per noi è notevole naturalmente, però se facciamo il confronto con quella che è la sua stagione migliore, questo dato era percepito anche dal pubblico, perché i tempi stavano cambiando, perché i turisti stranieri del Gantù stavano cambiando, i turisti stranieri volevano questo, questo è la starga di Santa Malta, è una veduta certo, però che come nel dipinto di Luca Callevaris non è che rappresenti Venezia, rappresenta Venezia sullo sfondo, ma un'allegrissima combricola di popolo, una scena corale che ci racconta quella che era la vita veneziana, perché il turista non amava più guardare gli edifici e immergersi in essi, voleva rivivere il folklore della città, con le sue abitudini, con i suoi vezzeggiamenti, con anche delle stranezze, delle scene di genere, perché questa in fondo andrebbe definita una scena di genere. E in questo contesto che è profondamente cambiato, che alcuni studiosi dicono che è in sofferenza e abbraccia l'ultimo quarto del Settecento, c'è un nuovo protagonista, John Strange, questo è il penultimo residente inglese a Venezia, che come tutti i suoi predecessori era sia un diplomatico, ma anche un mercante, ovvero era il punto di riferimento di quanti di passaggio, parlo degli inglesi, decidessero di acquistare, come è successo per lo Smith, un dipinto. Solo che a differenza dello Smith, Strange era un uomo di grande cultura e prima di tutto un collezionista, quindi amava moltissimo comprare e soprattutto comprare i grandi maestri del Rinascimento, genere che era deplorato dal mercato settecentesco, proprio un genere di inchia che non voleva nessuno. Ovviamente privilegiava questa linea, però gli toccava anche comprare paesaggi e vedute, perché ammette in una corrispondenza inedita che è resa nota integralmente nel saggio, che appunto vi sto presentando, ammette che alla fine la gente vuole le cose moderne e le cose moderne bisogna dargliele. Quindi in una carellata di divertentissimi aneddoti, in cui si parla di come arrangiare le cornici, di come fare dei falsi, di come camuffare un po' i quadri per venderli al meglio, spicca un aneddoto che io non posso fare a meno di raccontarvi, anche se magari pregiudico la vostra curiosità per il libro. Quella che vedete è Villa Loredan, che come il buon Smith aveva scelto lo stenge come residenza di campagna, solo che praticamente ci viveva, era nella campagna di paese e quindi questo gentiluomo si sollazzava volentieri e aveva incaricato un suo luogotenente a Venezia perché si procacciasse i quadri. Nella pace di questa oasi di felicità naturalmente, come ogni inglese che si rispetti, voleva avere il suo souvenir. E questo souvenir, come potete vedere da questo disegno di sua proprietà che è alla Schmolle, al museo di Oxford, è di stile guardesco. Perché a John Strange piaceva avere i disegni di Francesco Guardi e li chiedeva proprio al suo luogotenente, infatti in una lettera dice vorrei che Guardi mi facesse quei due disegni, disegni, cioè dell'Anconetta e del Casino alla Giudecca, non solo netti, ben finiti e compagni, ma anche coloriti esattamente come le cose che sono costite. Così avrò due passabili disegni ancora dei medesimi siti da mettere a fare altri miei, oltre ai quadretti che ne faranno. fin qui tutto bene, lui vuole dei disegni a Francesco Guardi e li chiede. C'è un problema, Guardi non si trova, Guardi non è disponibile. Quindi abbiamo una validissima alternativa. Forse Antonio Postinaro, ovvero un portinaio, farebbe bene i due disegni coloriti, doggio che Guardi non si trova. E Antonio potrebbe provare prima la Giudecca, in buona carta, come gli disegni Leonardis di quella misura, ma finiti, come fece quello del giardino anticamente, coi cani. Qui si rizzano le orecchie, per non dire altro, in quanto questo è il giardino con i cani. Qui ci sono dei cani e qui ci sono dei cani. E questo giardino, questo disegno è classificato in questo modo nella vendita che Strange fece a Londra di tutto il suo patrimonio. classificandolo come Francesco Guardi e come Francesco Guardi tutti i disegni che Strange possedeva. Quindi, certo non possiamo dire che questo disegno corrisponda a quello, però sappiamo che Antonio Postinaro, a cui dà tutte queste indicazioni, ha eseguito almeno quattro disegni. E tra l'altro si viene ulteriormente specificato che è un postinaio, in quanto si premura il nostro Strange di dire perché ho il poco di tempo che questo si assenta per prendere bene la visuale dei posti, la moglie baderà il palazzo. Quindi il grande Francesco Guardi è sostituito da un portiere, un portiere bravissimo, che manda gli sbozzi, quindi che produce un lavoro che viene guardato attentamente al committente, giudicato, elaborato, approvato. Rimando allo sbozzo Antonio che approvo, già tenderà per l'esaltezza degli oggetti lontani tali e quali ed egli è ben capace di farmi, come spero, gli quattro disegni esattissimi e bellissimi, come premo con comodo di averli, conservandomi anche gli sbozzinetti, onde mi raccomando a lei. Quindi era felicissimo. Il portinaio ha fatto i lavori di Francesco Guardi, Francesco Guardi nell'economia di John Strange è rilevante, però questi disegni saranno Francesco Guardi alla vendita. Gettando non poca confusione al tempo, io mi permetto di dire non poca confusione anche a noi. Il buono con il cattivo, quindi, l'originale con il falso, si confonde in un universo in cui a mio avviso, come i nostri giorni e come c'è sempre stato, ognuno fa i propri interessi e soprattutto ognuno cerca di guadagnare il più possibile. Lo stesso aveva cercato di fare Giacomo Guardi, figlio di Scepolo, emulo del grandissimo Francesco, che però vive a fine del Settecento e vive quando Venezia ormai si stava pannando nella sua gloria e quando il bacino di turismo era di un livello molto più basso dal punto di vista delle disponibilità o della voglia di spendere. Quindi decide di confezionare delle cartoline, delle piccole tempere tascabili in cui i luoghi più belli di Venezia venivano resi con una tecnica estremamente accattivante, che era la tecnica della tempera. Riproduce non solo gli angoli più belli, come questo ponte di Rialto, i più suggestivi, più famosi, ma anche a volte luoghi semisconosciuti, luoghi selvaggi, quei luoghi che lo spirito romantico ricercava. E soprattutto questo Giacomo Guardi dietro queste piccole tempere si premura come per qualsiasi bravo mercante dei tempi moderni di specificare il soggetto e soprattutto il suo recapito, perché chiunque avesse per mano anche magari in Inghilterra delle tempere se stringesse andare a Venezia sapeva che il suo recapito era lo sospedaletto in calle del parrucchiera al numero 5245 e pregava pure di domandare di lui, in modo tale che avrebbe ricevuto, venduto al minuto oppure anche su commissione i soggetti che più aggradavano i turisti. Idea estremamente ingegnosa che lo equipara a un senso di mercato decisamente moderno. Molto divertente perché a me piace immaginarlo sulla soglia di casa che accoglie, in questa casa bottega e che felicemente stringe la mano e cerca di propinare il numero di castoline più elevato possibile. Questo ci racconta però come alle soglie dell'Ottocento Giacomo Guardi esprima una Venezia che è profondamente cambiata e che da capitale del gusto, come lo era con Canaletto e Marieschi, era diventata, tra virgolette, concedetemi soltanto, una meta turistica in senso moderno. Vi ringrazio.